E ciao a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti. In questo video vedremo come completare il calderone. Prima di lasciarvi al video in cui vi mostro i vari step per completarlo, andremo a vedere anche cosa riusciamo ad ottenere da questo calderone e la posizione esatta sulla mappa. Come potete vedere riusciremo ad ottenere diversi override, sia override completi che override corrotti. Per quanto riguarda gli override avremo quello del foraterra, del rovistatore e del cervavito. Mentre per quelli corrotti abbiamo quello dello spazzino, dello spinocero e dei grandi fauci. Successivamente poi anche a questo video ragazzi, più avanti vi caricherò anche come sviluppare gli override corrotti. Ma passiamo adesso a vedere dove si trova esattamente questo calderone. La posizione esatta è questa. Prendete di riferimento Eco della Pietra. Potete anche considerare luce arida andando in questa direzione. Proprio al di sotto del collo lungo abbiamo questa zona. Eco della Pietra, vi avvicino la visuale per farvi vedere che la direzione esatta si trova proprio tra queste due zone di Codafrusta. In direzione proprio del Ferrariete, proseguendo riuscirete a raggiungere il calderone. Prima di lasciarvi al resto del video in cui vedremo i vari step per completare questo calderone, se avete bisogno di consigli per affrontare la boss fight con i grandi fauci, scrivetemi qua sotto nei commenti. Inoltre, come sempre, se avete bisogno di altri aiuti, stessa cosa ragazzi, scrivete qua sotto, sempre nei commenti. Detto ciò ragazzi, io vi lascio al resto del video e buona visione! Una volta dentro, non potrò uscire. Queste sporgenze dovrebbero reggermi. Scendiamo! Questo cav... Comincio a pentirmi di essere qui! Si ricomincia! Bene, è stato bello. Andiamo a raggiungere. Questa poltre mi risponderà per un po'. Questa poltre mi risponderà per un po' di risponderà per un po' di risponderà. Questa poltre mi risponderà per un po' di risponderà per un po' di risponderà per un po' di risponderà. Questa poltre mi risponderà per un po' di 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 Merda, altre macchine! 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 Merda! Merda, altre macchine! Merda! Merda, altre macchine! Merda! Merda! Merda, altre macchine! 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 Merda, tallestelle macchine! Merda, altissime! Merda! Merda! Merda, altissime! Merda, altissime! Whitate! Merda! Merda, altissime! Merda, altissime! Merda, altissime! Merda, quanti! Grazie a tutti. 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 Dovrò combattere per ottenere gli override. Con questo potrò eseguire ancora più override. Grazie a tutti. Grazie a tutti.